Assessore Raffaele Arvonio, la sicurezza è una priorità di questa amministrazione comunale. Proprio in questi giorni con delibera di giunta è stato approvato un progetto Torre del Greco Sicura. Che cosa prevede e quali sono le finalità? Gli obiettivi sono duplici, quello di creare un effetto deterrente sul territorio, ma anche quello di dare un supporto operativo a tutte le attività giudiziarie sul territorio. Quindi dare un supporto sia alla Polizia Municipale, ma anche a tutte le attività svolte dai carabinieri, dalla Polizia, quindi di tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio. Un progetto importante, anche di un importo abbastanza cospicuo, di 1.300.000 euro circa. Abbiamo optato per mettere anche un cofinanziamento comunale di circa l'11%, che ci dà un maggiore punteggio per poter accedere al finanziamento. Perché, ce lo dobbiamo ricordare, è comunque una partecipazione ad un bando pubblico. Quindi ci sarà una commissione esaminatrice che andrà a valutare il progetto. Adesso bisognerà aspettare i tempi di tutto l'itero amministrativo? Sì, il bando è in scadenza il 15 di ottobre. Il progetto viene presentato attraverso le prefetture territoriali. Quindi non l'abbiamo presentato alla prefettura di Napoli. Ci sarà un protocollo d'intesa con la prefettura di Napoli. E poi ci sarà una commissione esaminatrice del Ministero che andrà ad esaminare questi progetti. In base alla percentuale di cofinanziamento, in base anche alla criminalità sul territorio. Perché più un territorio è influenzato da eventi criminosi, più avrà dei punteggi per la videosorveglianza. Se non dovessimo rientrare in questo finanziamento, da qui a qualche mese, a qualche anno, il Comune può decidere anche di autofinanziarlo, perché comunque è un progetto importante che la città ci chiede e che comunque va fatto. Quindi noi tentiamo attraverso il Ministero. Lì dove non dovessimo rientrare in questo finanziamento, comunque avremo agli atti un progetto importante da poter portare a termine nel giro di qualche anno. Questo progetto prevede l'installazione di telecamere e di videosorveglianza su tutto il territorio? Sì, sono previste 183 telecamere. 120 telecamere sono quelle normali. 60 telecamere avranno anche il riconoscimento OCR, che ci permetterà di effettuare anche il riconoscimento automatico delle targhe. Qual è l'incidenza di questi fenomeni di microcriminalità in questo momento, dottore Del Greco? Di sicuro ci sono, quindi non possiamo fare finta di nulla. Anche se devo dirla tutta, la criminalità c'è, ma vedo molti più sversamenti abusivi sul fronte ambientale. Quindi il progetto è incentrato sulla sicurezza urbana, ma non abbiamo dimenticato gli sversamenti abusivi che avvengono sul territorio. Questo progetto per una città più sicura ha visto anche il particolare impegno e interessamento della consigliera comunale Carmela Pomposo, da sempre in prima linea sul fronte rifiuti per contrastare i fenomeni di sversamenti abusivi che purtroppo continuano di insistere sul nostro territorio. Grazie a questo nuovo progetto per le telecamere riusciamo a risolvere molti problemi, soprattutto a parte quelle che potrebbero essere su atti vandalici e quant'altro, soprattutto sui rifiuti. Infatti grazie alle fototrappole che sono state emisse precedentemente, per esempio faccio un esempio sul Via Ruggiero, lì sono stati permessi materassi e resti di animali. Sono stata contattata dai residenti di Via Ruggiero e prima abbiamo provveduto alla polizia, poi a una disinfettazione del posto perché c'erano resti di animali e poi è stata installata una fototrappola. Questa fototrappola ci ha permesso comunque di prendere persone che andavano a sversare continuamente nonostante che il posto sia stato pulito, eccetera, eccetera, e sono state multate. Queste telecamere ci permettono di prendere il numero di targa delle auto che fanno questi sversamenti illeciti anche di notte, perché purtroppo all'inizio sono state emesse delle fototrappole che di notte non erano a raggi infrarossi, quindi di notte non ci permettevano di prendere il numero di targa e quindi poi di risalire alla persona che aveva commesso questo scempio. Invece con queste telecamere riusciamo ad approfondire. L'attività di monitoraggio finora ha dato dei risultati, attraverso le sanzioni sono diminuiti gli sversamenti? In alcune zone sì, in alcune zone sì sono diminuite. In settimana sono state fatte comunque delle multe di cittadini che andavano a sversare fuori orario. Ecco, ci sono state alcune multe fatte per dei rifiuti sversati alle ore 19. Invece sappiamo benissimo che si sversa dalle 21 alle 24. In attesa ora che il progetto venga finanziato e abbia il placet del Ministero, comunque i controlli sul territorio continueranno per stanare i trasgressori? Sì, i controlli saranno continui. Ovviamente chiediamo l'aiuto al comandante Visone, che è il comandante dei vigili urbani, che pur non avendo a disposizione molti uomini sul territorio, però ce la sta mettendo tutta. Chiediamo aiuto ai cittadini di darci una mano sia per quanto riguarda i rifiuti e sia per quanto riguarda gli ingombranti. Insomma, dobbiamo lavorare in sinergia, sono importanti tutti e bisogna andare avanti cercando di risolvere il problema.